L'Atalanta vuole continuare la corsa dopo due risultati utili consecutivi. Il Napoli vuole dimostrare al campionato di essere competitivo anche per il titolo. Rossena largo, palla sul secondo palo dove arriva Maggio che prova la sponda, insegna e con il destro si gira. Miracolo di consigli. Schielotto, Cazzola, dentro per Denis al volo, Carmona! Che gol! Incredibile Carmona! Arriento, la sblocca lui al diciannovesimo, Atalanta in vantaggio, Carmona! Cinque saltatori nel mucchio, palla dentro per Amsic! Attenzione a Morales, buono il pallone diagonale per Denis. E Denis, il cross basso, il secondo palo, spinta Brivio col sinistro! E si divora il pallone del 2 a 0! Secondo palo, la scivolata di Insigne e palla fuori, che occasione per il Napoli! Gemmaio lì dentro, Pandev vorrebbe girarsi per Insigne, verso Amsic! Un miracolo di consigli! Insigne, c'è il campo più aperto del solito, Insigne, molto bravo, tiene vivo il pallone, Insigne! La vede sbuccare all'ultimo, la palla quasi col petto! Posizione regolare, Denis alza la testa, Denis! Tutti dentro a saltare! Maggio la mette fuori, di pochissimo! Che occasione per il Napoli! È finita a Bergamo, l'Atalanta ha battuto 1-0 il Napoli! Che favors! Che